ho già un paio di ore che lavoro qui dentro e siccome mi sono stufata e mi sto anche annuiando e sono da sola allora ho pensato di passare un po di tempo con voi sono sempre qua nella mia stanza creativa che sembra sempre un completo disastro in realtà è molto più in ordine di quanto non sembri è solo che ho spostato tutte le scatole al centro della stanza per vedere cosa c'è dentro e per poi risistemarle e comunque ho già incominciato come vedete a mettere tutti i bigliettini così non serve ogni volta che vado a riaprire scatola per scatola per ricordarmi cosa c'è dentro o comunque per cercare qualche cosa vabbè mi stavo annoiando e volevo fare un po di pausa quindi ho preso il telefono e ho deciso di passare un po di tempo con voi ecco nel frattempo avevo anche trovato delle foto che volevo mostrarvi se le ritrovo perché sono già riuscita a perderle che sono delle foto che ho scattato quando andavo ancora a scuola per farvi vedere insomma un po come ero e mi vergogna tantissimo ma è un modo per farmi conoscere un po di più e per farvi entrare un pochino insomma nella mia vita ok appena li ritrovo ve li faccio vedere e sono una anzi sono due delle poche foto ma proprio pochissime se non le uniche foto che ho fatto in quel periodo lì in cui andavo appunto a scuola e io sono qua ciao perché comunque era un periodo che non ho odiato insomma un periodo in cui odiavo fare le foto nel frattempo ho trovato anche le fotografie che stavo cercando e così insomma mi fate un po di compagnia e allo stesso tempo vi mostro un po alcune cosine alcuni reperti qui sono le foto che vi dicevo che ho trovato ok questa non c'entra niente la foto della prima comunione di mio marito e poi questa sono io quando avevo circa 16 o 17 anni 16 credo perché quella sotto è dei 17 anni ed è praticamente una delle poche se non uniche foto che ho di questo periodo qui ho odiato per un sacco di anni farmi fare fotografie ecco questa è uscena non so nemmeno se farvela vedere o no ormai che ci siamo questa è la foto di quando sono stata in america e questa appunto la foto che ho fatto dal traghetto mentre stavamo andando sull'isolotto insomma dove c'è la stato della libertà e questa invece credo di averla fatta non so se in grecia o in sardegna o in francia non lo so credo un anno prima e sì vi stavo dicendo che queste sono due delle pochissime foto che ho fatto quando andavo a scuola più o meno dal periodo delle medie fino fino a poco tempo fa in realtà perché ho sempre odiato farmi fare le foto e per due motivi in particolare uno perché comunque non sono per niente fotogenica e non vengo mai 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 bene nelle foto e l'altro motivo era perché comunque non mi piacevo quindi non piacendomi io stessa non potevo nemmeno vedermi bene nelle fotografie e quindi insomma di fotografie in quel periodo linee ho fatte poche io intanto che mi fate compagnia andrei anche avanti sistemando la stanza ma volevo farvi vedere questo posto che forse molti di voi non lo riconosceranno anzi probabilmente nessuno ed era il posto dove inizialmente creavo i miei primi video questo era è quello che era il mio piano da lavoro guardate non so se ve la ricordate questa forse l'avrete vista è la stella che ho realizzato per natale con il nastro con lo spago scusate questo è un progetto che ho filmato ma che non ho mai pubblicato ed è una sorta adesso non so se si vede un po buio ma è una sorta di mini acquario tiriamolo fuori vedete il pesce non è vero ovviamente è finto mini acquario nel vasetto ditemi se volete vedere il video tutorial perché io l'ho realizzato che sarà tipo due o tre anni fa però poi è sempre rimasto qui e come questi ne avevo realizzati anche altri con le fatine con le farfalle con gli uccellini insomma con un po di animali vari e qua in questo tavolo ci sono tanti progetti che ho già realizzati che non avete mai visto tanti progetti che di cui avevo l'idea ho comprato appunto il materiale necessario ma non ho mai avuto tempo di realizzare adesso così non si vedrà nulla ma è appena successa una cosa che mi ha lasciato davvero perplessa ho preso uno spavento che non vi dico allora adesso l'esserino è morto però sapevo che c'erano ragni qua dentro ma questo se non so se riuscite a capire che cos'è ma questo giuro non me lo sarei mai 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 aspettato oddio che schifo però che non ce ne siano altri spero neanche che in realtà non sia arrivato da qua dentro ma da 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 qualche altra parte da cui arrivava la scatola perché giuro sono in panico adesso sono terrorizzata e non voglio toccare più da nessuna parte mi sto continuando a guardare intorno e ho paura di mettere le mani ovunque giuro non so nemmeno se continuare oppure no ora ciao 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 ciao